Io odio i supporti ottici, li odio profondamente, specialmente quelli DVD. Buona visione! Allora, oggi facciamo vedere questo DVD recorder della Sony, modello, se si legge, RDR-GX7. Molto, molto valido, molto, molto bello, praticamente semiprofessionale, addirittura c'è l'ingresso di V-frontale. Bellissimo, che diciamo che intanto si accende, più o meno, o meglio, non è che più o meno si accende, funziona, l'abbiamo anche già aperto. L'alimentazione funziona perfettamente, OSD su disperse. Se io inserisco un DVD, questo non legge, non legge il disco, quindi questo è purtroppo un problema, non da poco. Ora, che abbiamo pulito la lente come avete visto, inseriamo il nostro disco, chiudo. Fini e sì, ferma, ma se anche provo da replay, mi viene ripetuto un disc error. Questo lettore DVD recorder della Samsung, che banalmente non legge i dischi, come questo DVD può dire che si accende per termine che non lo buttate in osso. Devo dire che ora parte. No, per fargli fare una lettura corretta, preferisco mandarlo fuori e rimandarlo all'interno, ma non mi sembra. Quindi, togliamo via due cose e lo buttiamo. E detto questo, vi saluto. Grazie. Grazie.